buongiorno a tutti amici ecco stamattina vi mostrerò come fare l'esca di palo guardate questo è il suo tubicino non si fa altro che mettere un po di sale così ok e dopo di che bisogna aspettare ora cominciano a fare dalle bollicine noi ci prepariamo copriamo poco con la sabbia ecco ecco stanno cominciando a fare dalle bollicine noi siamo pronti eccolo 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 scusate ma con una mano anche più difficoltà ecco guardate ed ecco il tubicino eccolo lui che esce e questo è quanto buona giornata a tutti amici ciao ciao